Torniamo a respirare ambito internazionale, andiamo a premiare un club nordico, antivissimo e molto simile a noi nello spirito, viaggiano, fanno casino in giro per il mondo, si divertono e sono simpaticissime, Giorgio Grandi e Sguardo Moravia Buon appetito! Bene, e sono i posti? Per il tempo. Sì, viaggiano a fare un foto con i ragazzi. perché conosciamo la situazione con il signor Fulaneta ha detto che il vincere delle cazze non è così interessante come fare foto con le donne e con le ragazze siamo molto felice che veniamo qui per il secondo giorno grazie a tutti e ho spero che abbiamo avuto molto tempo per parlare in questo anno quando siamo qui per l'ultima volta grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti e la moto, siamo molto simili grazie a tutti e sui eventi, ci sono solo un giorno per il prossimo giorno se volete riconoscere ok, ora è ora per il nostro avvento questo anno abbiamo avuto un evento di giornali Gran Brejo che era 9 anni e siamo molto fortunati che molti persone da Italia e anche da Slovenia, da Croazia venivano alla Repubblica sono 27 persone veramente, grazie grazie per questi numeri, per queste persone ma anche per molti giochi per partire la passione insieme è stato un grande weekend è stato il primo weekend in giugno e il prossimo anno, nel 2017 abbiamo l'anniversario ricorda che appunto al nonno Gionardi ci sono state più di 27 persone dall'Italia e ci siamo molto divertiti e adesso ricorda la data per quest'anno e per il 2017 abbiamo fatto anche il stesso evento in Iesseniki Mountains è il stesso momento quando è stato un anno fa non questo anno, ma un anno fa l'evento sarà il primo weekend di giugno e si tornerà a fare come le edizioni di due anni fa quando eravamo sui Monti di Iesseniki e tutti, tutti e tutti sono molto invitati e credo che Rudy, Gabriele e molti persone come David, Doggo e Manuva e così potete dare una ricerca come è stato in 2015 e 2016 è stata una celebrazione di giugno di giugno di giugno di giugno di giugno e la nostra passione quindi Gio come mio assistente qui ci invita a ricordare quando è stato un bel evento a noi che siamo stati e adesso abbiamo un paper di giugno per questo quindi se qualcuno vuole sapere qualche informazione è qui e anche e anche a domani avremo un'epoca con la prima informazione di questo chi è interessato al loro tavolo hanno già dei golondini per l'evento del prossimo anno l'onore l'onore è Rodolfo grazie ha nominato Rodolfo come il loro operatore questo ok quindi tutti sono invitati e siamo felici se qualcuno di voi abbia tempo e and will go to us thank you a very a 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 Grazie per la visione!